Nell'elenco dei guariti risulta già o da un po' ma il dopo il terzo tampone negativo potrà rientrare sul posto di lavoro a liberarsi della sorveglianza attiva. La formale guarigione per la dipendente comunale di Palazzo San Francesco è arrivata oggi. Si tratta della Sulmonese, la prima colpita dal covid-19 di questa seconda ondata che dopo oltre un mese di malattia può dire concluso un percorso doloroso e complicato. Ha voluto con gioia comunicarmi personalmente che finalmente dopo il terzo tampone negativo potrà tornare alla sua vita normale, al lavoro tra i suoi cari, ha commentato il sindaco Anna Maria Casini. A lei i miei migliori auguri che sono gli auguri di un'intera comunità che suonano come un autentico auspicio affinché questo brutto periodo passi presto e si possano festeggiare tante altre guarigioni e soprattutto l'interruzione di questa catena di contagi che dovrà essere spezzata. Ogni tanto una buona notizia.